E' stato interlocutorio l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico tra rappresentanti delle istituzioni Nestlé e sindacati sul piano occupazionale per la Perugina, dove la multinazionale ha annunciato 340 essuberi. Le parti si sono prese altre tre settimane prima di un nuovo vertice, già messo in programma per il 15 febbraio, sempre al Mise. In quella occasione potrebbe arrivare la chiusura della trattativa. In un incontro tra Nestlé e sindacati, che si è svolto nei giorni scorsi a Perugina, si è tra l'altro parlato della possibilità di ricorrere a 150 contratti part-time su 80 posti incentivati in altre aziende sul territorio, oltre che su una sessantina di uscite volontarie dallo stabilimento di Sanzisto.